L'artice di governo sulla manovra, confermate le misure più importanti, ma apertura all'Europa sul rapporto deficit-pill. Il Premier Conte non parlo di decimali. Apertura sul deficit e tranquillizza i mercati, spread in calo, piazza affari, vola, draghi, fiducioso in accordo Italia-Unione Europea. Scontro nello stretto di Kerch con guardie di confine russe che sequestrano tre motovedette ucraine e l'Unione Europea condanna l'episodio. Speranze per Silvia Romano, la giovane italiana rapita in Kenya, la polizia speriamo di trovarla viva, ci stiamo avvicinando ai rapitori. Lo scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati, sarebbero due gemelle, nate a ottobre. Addio a Bernardo Bertolucci, regista di capolavori come 900, ultimo tango a Parigi e l'ultimo imperatore che gli valse due Oscar. E' arrivata su Marte la sonda InSight della NASA a Rhinos 24, le fasi cruciali della discesa sul pianeta rosso e la prima foto dal pianeta rosso.